dell'influenza dello stimolatore penalizzante. Cosa serve lo stimolatore penalizzante? Abbiamo visto che ogni struttura è composta da un alimentatore, che quindi può essere il conflitto, l'alimentatore rappresenta il conflitto, le strutture non cambiano quantitativamente, cambiano qualitativamente. Le strutture possono cambiare qualitativamente, l'evoluzione qualitativamente può cambiare. Cosa vuol dire cambiare qualitativamente? Ridurre i conflitti e ridurre il senso del tradimento. Perché ovviamente più forti sono i conflitti e più forte il tradimento, più le persone tendono a vivere male, fondamentalmente. Con dei modelli ristrutturativi, un percorso di crescita personale, si può cercare di ridurre sia il conflitto che il tradimento e quindi vivere meglio fondamentalmente. Allora, volevo parlare dello stimolatore penalizzante, che fa parte della struttura. Quindi ogni persona al suo interno ha, secondo questa interpretazione, un alimentatore che rappresenta il conflitto nelle strutture genitoriali, conflitto più tradimento nelle strutture egocentriche, come abbiamo visto. Questo rappresenta l'alimentatore. Quindi fondamentalmente conflitto più tradimento nelle strutture egocentriche, comunque sempre un qualcosa di percepito come negativo, tra virgolette, conflitto e tradimento. Ogni persona però ha anche, abbiamo visto, uno simbolo che è così chiamato stimolatore penalizzante. Lo stimolatore penalizzante, ma che schemino? Non c'è ancora da fare lo schemino, non c'è nessuno schemino da fare. Adesso ascolta, quando è il momento faccio lo schemino. L'ho già fatto lo schemino, l'ho già fatto nelle elezioni precedenti, cioè non è che te lo faccio rivedere, ma l'ho già fatto. Sono tutte cose che ho già fatto, gli schemini li ho già fatti, li abbiamo già visti. Cioè li abbiamo già visti quegli schemini, comunque sono tutti questi qua, li avevo già fatti, che devi fare 50 volte. Te li vai a vedere? Sono nelle foto, li ho messi. Nelle foto ci sono. No, oggi non c'è, oggi non c'è schemino. Se c'è uno schemino da fare lo farò, però per adesso non ci sono schemini. Allora, quindi lo stimolatore penalizzante, come ho già detto, rappresenta, diciamo, invece ciò che la persona, ciò che la sfera emotiva della persona va a ricercare. L'alimentatore rappresenta ciò che la persona è, lo stimolatore penalizzante rappresenta ciò che la parte emotiva della persona va a cercare, lo stimolatore gratificante rappresenta ciò che la parte logica della persona va a cercare. Come si trova lo stimolatore penalizzante? Ho fatto tutti gli schemini e l'ho già detto, quindi andatevi a vedere le cose precedenti, perché non rimetto le foto, ve le andate a vedere, le ho già fatte 500 volte, quindi le ho postate le foto. Siccome si trova lo stimolatore penalizzante, si trova conoscendo l'alimentatore e conoscendo la polarità possesso o desiderio. Quindi, ad esempio, se ho un ego femmina, abbiamo fatto anche gli esempi, se ho un ego femmina sul desiderio, lo stimolatore penalizzante sarà, diciamo, conforme all'alimentatore, quindi in quel caso lì sarà triangolo, perché è ego femmina a simbolo omologo, triangolo. Quindi questi sono gli schemini che avevo già messo, quindi questi dovete saperli, questi dovete studiarveli, io li ho già messi. Allora, quindi sapete come ricavarvi lo stimolatore penalizzante, in pratica, conoscendo la polarità e conoscendo l'alimentatore. E poi abbiamo visto che è un'equazione, abbiamo fatto tutti i casi, abbiamo fatto un'equazione, si possono trovare le varie cose. Ma a cosa serve sto stimolatore penalizzante? Quindi che sapete come riconoscere? E poi vi darò altri modi più pratici per riconoscerlo. Rappresenta ciò che la persona cerca, quindi la parte emotiva della persona cerca. Quindi facciamo un esempio pratico. Allora, supponiamo un uomo, supponiamo un uomo. Ego, facciamo maschio, con stimolatore penalizzante asta e stimolatore quindi gratificante triangolo. Ok, scrivetevelo casomai. Comunque sarebbe questo, uomo, ego, maschio, con stimolatore penalizzante asta e stimolatore gratificante triangolo. Allora, cosa vuol dire? Che lui è ego, maschio e quindi ha tutte le caratteristiche dell'ego, maschio. Tende ad agganciarsi, diciamo, a tutto quello che abbiamo detto sull'ego, maschio, quindi non sto a ripetermi, però tutto quello che abbiamo detto sull'ego, maschio, che serve per farlo agganciare, posso utilizzarlo. In più, conoscendo lo stimolatore penalizzante, in questo caso l'asta, so che il comportamento ad asta, diciamo, aggancia la sua parte emotiva, ma sgancia la parte logica. Quindi un errore che ho visto fare tantissime volte, ho visto cadere molti soldati su questo fronte, è ho capito che il suo stimolatore penalizzante ad asta e allora inizia a dirgli, certo che tu sei un coglione, sei un deficiente, con te non c'è niente da fare, ogni volta che fai una cosa la fai nel modo sbagliato, sei il solito cretino, cioè andare giù a bastonare in questo modo, no? E cioè, piace la parte emotiva, ma non piace la parte logica, perché la parte logica invece, se lo stimolatore gratificante, penalizzante è triangolo, lo stimolatore gratificante, scusate, è l'asta, il gratificante è comunque il triangolo, quindi la sua parte logica va a cercare invece una persona che gli dice, ah ma se hai bisogno, non ti preoccupare, ti aiuto io, eccetera, eccetera, no? Quindi non è che voi dovete, capite che uno è penalizzato ad asta e iniziare a prendere la male parola, a parte che l'asta non è le male parole, è semplicemente amplificare i problemi negando la soluzione, con te non c'è niente da fare, però tenete presente che ci va un rapporto, no? Un rapporto che secondo me potrebbe essere 2 a 1, cioè adesso volendo quantificare la cosa potrebbe essere, adesso io parlo di penalizzazione e gratificazione, ma se fosse a triangolo la penalizzazione sarebbe anche triangolo, poi facciamo tutti gli esempi comunque, la prossima volta facciamo tutti gli esempi delle varie casistiche, però adesso è per appunto spiegare bene l'argomento, mi manca un minuto, quindi non è che posso dire più tanto, però se io ho da fare con un ego maschio stimolato ad aste e gratificato a triangolo, beh dovrò dirgli due volte, ogni tanto dovrò dirgli, certo che tu sei un po' un coglione, però non ti preoccupare, guarda che ci penso io, non avere paura, cioè devo dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte fondamentalmente, quindi devo comportarmi una volta che ho identificato le cose un po' in un modo e un po' nell'altro, perché non posso prendere a calci nelle palle la parte logica, e qua adesso c'è un altro elemento chiave, da dove devo iniziare? Cioè ecco da dove devi iniziare? Devi iniziare a penalizzare o devi iniziare a gratificare? Questo dovete dirmelo voi perché dovete avere già la risposta, io ho capito che lui è un ego maschio, è un ego maschio, asta, gratificato a triangolo diciamo, dove devo iniziare a penalizzare? Sì, ma perché? Sì, ok, è giusto, gratifico prima, ma perché? Perché? No, anzi no, in questo caso non è giusto, in questo caso è sbagliato, in questo caso specifico è sbagliato Green Apple, ma però non è che uno, no, in questo caso inizio prima con la penalizzazione, in questo caso specifico, vabbè ve lo dico io se no facciamo notte, devo utilizzare l'informazione che posso averla dalla, se andate a vedere gli schemi posso averlo, dal fatto se è emotivo iperlogico, cioè in questo caso per strutture, io non vi rifaccio gli schemi, andatevele a studiare, l'ego maschio uomo con penalizzante, asta è una struttura emotiva e quindi siccome è emotivo devi iniziare dal penalizzante, quindi con gli emotivi devi iniziare dal penalizzante, prima penalizzo e poi gratifico, con gli iperlogici prima gratifico e poi penalizzo, cioè gratifico nel senso metto in atto un comportamento simile al quale caso, questo caso dell'ego maschio stimolato ad asta rappresenta una struttura iperlogica e emotiva, rappresenta una struttura emotiva, sì 2 a 1 si intende 2 penalizzante, no 2 poi, no 2 poi, 2 volte c'è il doppio, però è importante da dove inizio, è importante l'inizio, quindi se la struttura è emotiva deve iniziare prima metti in atto un comportamento penalizzante secondo lo stimolatore penalizzante e poi secondo lo stimolatore gratificante, se invece la struttura è iperlogica devo partire prima dal gratificante e poi dal penalizzante. Ah beh, approfondiremo la prossima volta perché non c'è più tempo adesso, la prossima volta approfondiamo...